Ciao a tutti ragazzi! Qui siamo da Andrea e io sono Filippo. Lui è un ospite speciale, è un mio amico, è quasi così. Ma oggi che facciamo Filippo? Giocheremo, non lo so, a qualche cosa. Che vuoi fare Andrea? Vogliamo giocare un po' a biardino? Forse, non so, do che lemmo come i miei popassetti. Bra! Ora, aspettate. Ecco qui. Ciao ragazzi! Ora, già sono dove? Sett'acqua. Volete mangiare una frutta o un panino con la Nutella? Un panino con la Nutella. Adesso, Andrea, potete una banana, una mela, un po' a giro. Già, non è che io ho panino con la Nutella. E io sarò con il più grande e il più grosso. Abominio! Wow, eh sì. E io sarò con il più piccolo che è il più grosso. Via! Ah! Ah! Abominio, stai a caldo! Mi sento il corpo al vento! Ecco a voi, action figure di Abominio. Aiuto, c'è la contro di me! Cosa? Aiutami! Aiutami! Ciao, zio! Vabbè! Ciao! Ciao ragazzi, questo era lo scontro tra... Abominio e... Questo era lo scontro tra Abominio e Freddy Krueger. Tra poco uscirà... Uscirà...